ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video oggi si parla di salernitana per forza di cosa perché alle 15 abbiamo una partita importante sì ragazzi la partita con la salernitana è una partita importante e capisco che qualcuno verrà qui a dire che cosa siamo diventati adesso la partita con la salernitana diventa un focus principale purtroppo è così purtroppo è così e ce lo dice la nostra storia degli ultimi anni dove vinciamo uno scudetto con sarri per un punto è vero che lo vinciamo con qualche giornata in anticipo però alla fine per un punto dove non vinciamo lo scudetto con pirlo dove siamo distanti dello scudetto con allegri dove usciamo agli ottavi di champions tutte e tre le volte con tutti e tre gli allenatori diversi e quindi per forza di cose penso che vada accettato il fatto che ci siamo ridimensionati negli anni e quindi sì la partita con la salernitana diventa importante molto importante bisogna portarla a casa è l'ultima partita pre pausa nazionali e ieri credo che allegri abbia toccato anche i tasti giusti in conferenza stampa dicendo che dobbiamo avere almeno la voglia dobbiamo metterci in testa che la prossima partita è con l'inter bene dobbiamo arrivarci nelle migliori condizioni possibili poi allegri diceva arriviamoci per poi vincere andare a pari punti nonostante loro che hanno la partita a recuperare occhio perché l'inter ieri ha pareggiato non ha portato a casa il punteggio pieno quindi riusciamo addirittura andare oltre questa previsione di allegri e credo che sia necessario da parte della squadra ritrovare questo entusiasmo nell'andare a recuperare terreno passo dopo passo piccoli passi abbiamo visto che quando abbiamo provato la scorciatoia definitiva uso scorciatoia perché un termine che ha usato anche allegri in conferenza stampa cioè l'acquisto di cristiano ronaldo siamo paradossalmente peggiorati perché abbiamo perso tanto troppo a livello di consapevolezza a livello di mentalità a livello di unità di intenti di gruppo quando ieri abbiamo fatto la conferenza stampa di allegri e ho aggiunto quel pezzettino poi di registrato dove ho messo la mia foto in bianco e nero e vi parlavo della presunta lite da quel momento in poi il mio cervello si è focalizzato sempre più su quella parte lì a cui non avevo dato troppo peso durante la conferenza stampa a cui non avevo dato troppo peso durante il video in cui vi parlavo del possibile probabile potenziale arrivo di Rudiger però da quel momento in avanti questo discorso questo elemento questa discussione riecheggia nella mia testa continua a rimbalzare un po rappertutto e mi sono tornate appunto in mente le parole di sarri che non sono mai state pronunciate di fronte una telecamera sono state riportate in più di un'occasione sarri stesso le ha smentite dicendo io non ho mai detto anzi sarri furbacchione non ha mai detto così ha detto non esiste un filmato in cui io pronuncio quelle parole che non significa che non le abbia mai dette significa appunto che non c'è la controprova però sapete tutti di cosa sto parlando e cioè squadra inallenabile non è ben chiaro che cosa potesse intendere se fosse per una questione di caratteristiche tecniche fosse una questione di caratteristiche mentali fosse un discorso di viziati fosse un discorso di troppo forti per incastrarli in una maniera logica perché poi ognuno la squadra è costruita male quindi poi sbilanciata una parte però dopo tre anni e tre eliminazioni degli ottavi queste parole iniziano a darmi un senso diverso soprattutto alla luce di quello che potrebbe essere effettivamente accaduto questo ritiro presa l'ernitana che allegri ha voluto perché probabilmente ha visto qualcosa che non andava più in questa squadra attenzione quando parliamo di allegri dobbiamo focalizzarci concentrarci a pensare a una figura autoritaria che ha avuto a che fare con fior fior di campioni e ha visto diverse squadre diverse juventus diversi milan diversi cagliari stiamo parlando allenatore di esperienza che mette al primo posto nella nel suo modo di allenare il suo modo di intendere il gruppo la gestione delle risorse umane allegri molto attento a questa cosa qui e se allegri nota un po di scriccoli allora ecco che va intervenire io ieri vi ho detto guardate che non mi è chiaro il discorso perché allegri prima negano è successo niente è stata una richiesta e poi dice c'è stato un po di casino qualcuno mi ha detto non ha mai detto casino no ragazzi allegri testuali però abbiamo bisogno di un po di casino quindi significa che qualcosa è accaduto di vale quadrato sembrano i capi delegazione tra virgolette io ieri ho detto allora perché non ci va chiellini non si è allenato invece no chiellini potrebbe essere titolare anche oggi dovrebbe essere una sorta di 3-5-2 con addirittura danilo a centrocampo adesso vedremo perché ragazzi ho visto i nostri convocati a centrocampo se non gioca oggi miretti non ha possibilità mai di entrare all'interno della juventus ragazzi parliamoci chiaro è vero che le cose non stanno andando bene alla juventus è difficile buttare i giocatori nelle condizioni estreme e sono io quello che ho sempre però se poi un ragazzo nel quale credi aggregato la prima squadra che comunque ha fatto anche una bellissima prestazione l'altro giorno contro il liverpool negli out league sono arrivati in semifinale io l'ho vista quella partita ha fatto un bellissimo gol se ne è mangiato un altro pochi minuti prima dove sole ha giganteggiato è perché sembrava giocatore in altra categoria però miretti non è sembrato da meno anzi liverpool ha subito tantissimo da juventus se nemmeno in casa con la salernetana riusciamo a dare minutaggio a questo ragazzo allora mi chiedo quando mai potremo pensare di iniziare a dare minutaggio a questi ragazzi che attenzione non ne faccio mai un discorso di età perché non è mai il numerino ogni giocatore è diverso per un'istituzione così di emergenza se vi adattare danilo a centrocampo ancora per l'ennesima volta l'ultima volta quest'anno era stato con l'empoli non siamo andati benissimo oltre a rabbiò che è un giocatore che ormai io l'ho detto anche l'altro giorno per me tutto quello che poteva dare a juventus l'ha dato e non ci saranno dei grossi margini di miglioramento poi sono lieto di sbagliarmi eventualmente è arthur che diventa l'unico a cui aggrapparsi veramente nonostante tanti limiti che sappiamo che conosciamo ma con la salernetana uno come arthur dovrebbe veramente giganteggiare alla pari di uno come rabbiò è perché con la salernetana rabbiò dovrebbe veramente giganteggiare non so quale sia il monte ingaggi della salernetana quello di rabbiò è abbastanza elevato non so se va a incastrarsi che ne so sulla metà dell'intera squadra non ho idea però a un certo punto quando le cose vanno sempre male so che è un po populista come discorso ma bisogna valere i soldi che si prendono i soldi che si richiedono i soldi che vengono riconosciuti e allora quelle parole di Sarri squadra inallenabile una squadra che esce male malissimo 0-3 0-3 in casa dalla Champions col Villareal 0-3 lo ripeto ancora una volta perché non è che si è uscito e basta non è che dopo il bel primo tempo e un pochino del secondo sai il rigore abbiamo perso l'episodio però il risultato 0-1 alla fine si abbiamo perso che sfiga no no 0-3 0-3 pesantissimo in casa 0-3 col Villareal agli ottavi di Champions League la Juventus dopo due anni prima ancora uscite gli ottavi e allora significa che qualcosa che non va c'è io l'altra sera ne facevo un problema psicologico e secondo me tale rimane perché questa volontà dei calciatori di riposarsi un po' di poco di avere meno ore di lavoro alla vigilia di una partita così delicata e con così tanti assenti perché continuiamo ad avere tanti assenti lì per lì non ci ho dato tanto peso ma vi assicuro che mi ha dato molto fastidio e mi sembrava doveroso parlarne in un video perché squadra inallenabile può voler dire tutto e niente ma se dopo tre anni ci ritroviamo in situazioni terrificanti dopo aver perso un po' quel senso che era sempre stata Juventus in precedenza e soprattutto nel momento più delicato della stagione dopo un'eliminazione bruciante la volontà non è quella di essere completamente concentrati sul campo e accettare anche il ritiro che l'allenatore impone perché magari vede un po' di attenzione che viene a mancare rispetto a quella che dovrebbe essere l'attenzione della Juventus allora un po' mi preoccupa questa cosa ed è l'inizio del video, l'interno del video la partita con la Sarantana di oggi è importante, è importantissima ma non solo, non solo per la classifica e quindi cercare di agganciare l'Inter ma per la risposta psicologica che daranno i giocatori non la risposta sul campo perché magari oggi vinci 5-0 la gente inizia di... no la risposta psicologica, non tecnica, psicologica, la voglia, la grinta, il voler rimanere a partire voler dimostrare che se sei alla Juventus lo 0-3 col Villareal non è accettabile non mi interessa la risposta tecnica, non mi interessa la goleada mi interessa vedere che tanti di questi giocatori sono ancora dentro il progetto Juve ancora amano la Juventus e vivono per la Juventus perché vincere 9 scudetti in 9 anni, se non vivi in simbiosi con la Juve non lo fai perché a un certo punto c'è la pancia piena, ti accontenti, ti basta se siamo arrivati a superare sempre i nostri limiti, i nostri record è perché evidentemente avevamo calciatori, allenatori, dirigenti, staff che meritavano di vincere e meritavano di essere a quel punto lì allo stesso tempo, se oggi siamo una squadra che vince lo scudetto per un punto che arriva quarta l'ultima giornata per via di un miracolo con Faraoni o che adesso è quarta perché l'Atalanta si è suicidata potremmo addirittura arrivare terzi perché anche l'Inter sta facendo male dove noi abbiamo iniziato male suicidandoci a nostra volta però alla fine della fiera quello che conta è la classifica finale e tu sei quarto o terzo o quinto o sesto, quello che sarai allora significa che quella è la tua dimensione come una volta ti meritavi di essere un giocatore, un allenatore, un dirigente da primo posto in Italia e forse secondo in Europa come tante volte siamo arrivati secondi in Europa in questo momento la nostra dimensione è allenatore, giocatore, dirigente da quarta, quinta posizione in Italia sedicesima squadra in Europa e ci metto anche i tifosi perché noi facciamo parte della Juventus ricordatevi che noi facciamo parte della Juventus e i risultati della squadra spesso e volentieri vanno anche a toccare la nostra sensibilità e la nostra educazione e automaticamente diventiamo a nostra volta colpevoli di quello che accade alla squadra e probabilmente ce lo meritiamo pure noi ieri Allegri diceva che anche i giornalisti sono stati eliminati dalla Champions io dico che anche noi siamo stati eliminati dalla Champions e che questi ultimi anni, dopo anni grandissimi ci serviranno, dobbiamo veramente imparare da queste annate qui e se impariamo noi tifosi e non imparano i calciatori e quindi oggi non ci vanno a dare quella risposta psicologica in campo la situazione diventa veramente grave e Maurizio Sarri quelle parole le ha pronunciate non a caso perché è un altro di quelli con esperienza grandissima ha visto di tutto Sarri, di tutto anche tantissimi anni di categorie inferiori quindi sicuramente se davvero ha pronunciato quelle parole e se davvero si riferiva a questo specifico punto inerente alla voglia dei calciatori col senso di poi non ci è andato tanto lontano anzi probabilmente ha inquadrato appieno il problema Forza Juventus, ci vediamo oggi con Twitch, la live reaction e ovviamente qua con il post partita di Juventus Salernitana che non deve essere Juventus-Berevento 2.0 Forza Juventus